Vai, parco avventura di Mendatica! Di Mendatica! Yuhuu! Un po' di tosse. Che bravo! Bravissimo! Primo passaggio fatto! Eccolo qua, secondo passaggio! Guarda come metti bene i piedi, perfetto, bravo! Che bravo! E' bravissimo, eh! Ciao Leonardo! Guarda che quel nonno guarda un po', va! Ok, adesso devi mettere i piedi sulla tavola. Bravissimo! E ora? Vai, eh! Ok! Sempre dritto così, perfetto! Bravo, così, vedi? Tieni le mani in alto! Che bravo! Ecco, è così che si fa! Bravissimo! Eccolo! Ci sei quasi! Che c'è qui? Eccolo! No, no, no! Ciao! Ti è piaciuto questo percorso a Mendatica? Sì! Yeah! Saluta a tutti! Dì ciao! 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 Ciao!